Ragazze raggirate per milioni di euro, questo uno dei servizi che ha per titolo Aliene Show di ieri il 23 febbraio 2016, a firma di Matteo Viviani. Matteo Viviani raccoglie delle parole, avrebbe raccolto delle parole che sarebbero arrivate da parte di alcune ragazze che sarebbero state lasciate piene i debiti da una persona, una persona infatti avrebbe promesso un lavoro a queste ragazze ma poi queste ragazze sarebbero state lasciate coi debiti addosso. Sto utilizzando il condizionale, non sto dicendo che sono state lasciate i debiti, no, ho detto sarebbero state lasciate, il che è nettamente diverso. Non sto qui a specificare in tale sede se la persona sia un uomo oppure una donna proprio per non ledere la privacy altrui, ma solo per dire che sarebbe questa la situazione. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, il video termina qua. Fatemi sapere che cosa ne pensate, le vostre opinioni, i vostri giudizi, le vostre considerazioni personali, nel rispetto degli altri. Questo video non vuole assolutamente ledere la presa altrui, anche perché non sono presenti i nomi né coni, vorrei informare tutte le persone nel rispetto degli altri. Non si sa se questa vuole questione sarà vero o false, possiamo fare delle supposizioni e le ho fatte. Iscrivetevi, commentate e vi ringrazio per la visione.